Inizio, 2, 1, inizio e inizio! E' molto interessante perché giocheremo il tutorial che io ho già fatto, perché al momento qua vedo che le montagne sono 6, ma io ho il sospetto che sia una versione limitata del gioco, quindi ce ne saranno molte di più. Però c'è anche l'Everest, il K2, il Manaslu, adesso usiamo la montagna tutorial, dove ci viene mostrato tutto il percorso che faremo, io l'ho già fatto e vi garantisco che è proprio così. Andremo a utilizzare questi apparecchiature, insomma questi attrezzi, non lo so come chiamarli, e l'errore che può capitare guardando questa lista è di acquistarli singolarmente. In realtà invece vedete che c'è un numerino, quindi andiamo al negozio e al negozio saremo in grado di acquistare queste cose. Scegliamola, vedete? Allora, non le vedremo in questo gameplay, ma dovremo essere bravi a pianificare la nostra scalata, portandoci tutto quello che ci potrebbe servire, soprattutto decidere di fare un campo base nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Mangiare quando ne abbiamo bisogno, non buttare picchetti, cose varie, inutilmente. Ecco, questo è fondamentale in questo gioco. La prima cosa che ci dicevi di comprare è pantaloni base e i pantaloni, sì, e la giacca. Dopodiché ci diceva due corde, intanto possiamo sempre tornare indietro quando vogliamo. Sette barrette, quindi queste qui, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Poi, sette barrette, quattro di questi, per i chiodi, per il ghiaccio. Che altro? Barrette, una scala e dovremmo essere a posto. La scala è questa. Spendiamo quello che dobbiamo spendere e andiamo avanti. Qua ci fa vestire, non ci chiede nulla riguardo a scarpe particolari, non usiamo quelle base, così come anche il caschetto, i guanti. Andiamo avanti di nuovo e andiamo ora a riporre tutto nello zaino. Lo zaino è diviso in tre parti, ci viene messo il peso superiore, inferiore sinistro, inferiore destro. Allora, iniziamo mettendo la scala. Vedete, la scala fa un certo peso. Cliccando col destro iniziamo a buttare dentro tutto. Quello che serve, così viene tutto raggruppato. Allora, cerchiamo di dividere il peso. Vedete che cambiano le percentuali di riempimento. In questo caso è abbastanza sbilanciato. Sbilanciato perché potremmo mettere questo... No, questo di qua. È tutto molto sbilanciato e non so perché. Forse la scala la potremmo mettere... 39, questo influenza tantissimo. 39... Potremmo metterle qui. No, 57 direi proprio di no. 39... Questi non pesano niente. 39, 37, 23. Vabbè, abbiamo il peso in basso che... Non sono un esperto, magari sto facendo una cavolata. Questo è l'inizio della spedizione. La cosa interessante del tutorial è che... Vabbè, a parte salta il tutorial perché non ne voglio sapere. Soprattutto quando vi compare quella schermata non vi lascia fare nulla. Questo è un campo base. Si inizia a salire. Questo ovviamente è dedicato anche agli appassionati o chi non lo può fare. Insomma, gli piacerebbe. E vi mette un pochino alla prova. Una delle cose interessanti, intanto, in alto vedete che stiamo consumando energia, forze mentali, insomma, nutrimento e temperatura corporea. Arrivando vicino, premendo spazio, si fa la prima scalata. Si scende e si va. Io ho apprezzato tantissimo anche Death Stranding, quindi i viaggi mi piacciono. Abbiamo una barrietta energetica lasciata qui da qualcuno. Pensate che l'ambiente delle scalate è un ambiente assolutamente spietato. Perché ho visto che nelle scalate all'Everest, o in Malaya comunque in generale, la catena dell'Imalaya, le persone, in momenti critici, vengono anche lasciate indietro e muoiono lì. Perché lo spostarsi da un sentiero e soccorrere qualcuno porterebbe a un dispendio di energie che non è possibile concedersi. Tenendo premuto il tasto alto a sinistra, ci viene mostrato quello che possiamo scalare. Cioè, in verde lo scaliamo normalmente, l'arancione con qualche difficoltà, cioè buttando via un po' di fatica. Infatti, andando avanti con le montagne sarà molto più complicato e dovremo gestire meglio le nostre forze. Dove è rosso è necessario un tool e dove è nero invece non è possibile. Intanto stiamo salendo, c'è un muro di ghiaccio. Si può salire, pian piano lo stiamo salendo. Probabilmente, vedete qua non si può, qua sì, gli scarponi ci consentono di scalare. E arriviamo a questa parete di ghiaccio. La cosa interessante di questo tutorial è che ci sono queste informazioni. Parlo di quattordici montagne sulla terra, all'altezza di cui è oltre gli 8.000 metri. Dieci di loro sono localizzate nell'Himalaya e quattro nel Karakoram. Tutte le quattordici montagne sono incluse nella corona dell'Himalaya e nel Karakoram. Solo 50 persone hanno vinto la corona, cioè praticamente le hanno scalate tutte. Allora, in sintesi, qua non si può scalare. Qua non si può scalare e dovremmo trovare il modo di farlo. Quindi, premendo il tasto I, dovremmo, vediamo un attimo, approcciarci. No, 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 non è ancora il momento. Infatti qui potremmo perdere il tempo a cercare di capire come scalarla, ma in realtà c'è il sentiero. Quindi in questo caso lo scaliamo da questa parte. Credo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Periograficamente è carino, perché comunque l'ambiente è fatto bene. Se cadete, morite, ripartite dall'ultimo checkpoint. Ovviamente potete cercare di battere voi stessi cercando di fare un tempo migliore dell'ultima volta. E adesso io non sto facendo una run. Qua parlano di Rinald Messner e di quello che ha fatto. Allora, continuiamo la scalata. Siamo abbastanza sudati. Bisogna arrivare lì in cima. Iniziamo la scalata. In questo caso, vedete, possiamo cliccare su delle zone, due, che sono la posizione delle due mani. Quindi, una mano qui, una mano qui. Iniziamo a scalare, cercando di stare sulla... Dovrei mangiare qualcosa, però ho un po' esagerato. Nel tutorial non avevo esagerato così tanto. Però, se arriviamo in cima, qua è un po' più perigliosa la situation. Mettiamo una qui e una qui. Ok. Una qui, una qui. Anzi, eh, ho sbagliato. L'ideale sarebbe salire da questa parte qui. E inizio a spostarmi di là. Eh, questa è un po' più pericolosa, eh. Una qui e una qui. Mi tengo qua vicino. Una qui. E facciamo stop climbing e ce l'abbiamo fatta. Comunque. Andiamo avanti. E qua è molto importante perché possiamo aprire lo zaino e tirare fuori la scala e metterla in uno dei tasti veloci. Quindi posizionando la scala, dobbiamo avanzare tenendo l'equilibrio, tenendo il tasto Q ed E. Cioè premendoli in direzione opposta con l'indicatore. Una volta che arriviamo alla fine, siamo arrivati. E, eh, hold F. E il backpack è sbilanciato. Quindi dobbiamo reinserire perché la scala ce l'abbiamo fuori. La mettiamo qua. Perfetto. Ci dà anche il baricentro, tra l'altro, che è qua sotto. E qui invece vediamo che dobbiamo, per forza di cose, salire con un metodo alternativo. Perché qui abbiamo il ghiaccio. Tante volte, quando ci troviamo in situazioni estreme, vedete, il backpack è... ...bloccato, ghiacciato, dice. Quindi dobbiamo tornare indietro e mettere le funi e i picchetti, questi chiodi da ghiaccio. Quindi adesso cerchiamo di capire come fare. Ora iniziamo a mettere il primo, lo mettiamo qui. Lo avvitiamo nel ghiaccio. E gli applichiamo la corda. La corda ci consente di avanzare in sicurezza. Vedete che devo metterne un'altra. Prendere una seconda corda. Ancora la mia destra. E magari ne metto un'altra, così lo fisso lì. Dovrei fissarlo lì, però. Ok. Pick up. Ok. Abbiamo un'altra informazione. Andiamo avanti. Ora, l'unica cosa che non trovo bellissima è quella grafica che abbiamo visto prima, in cui si scalava la parete di roccia con la visuale in terza persona. Io, tra l'altro, avrei anche bisogno di mangiare qualcosina. Quindi, cioccolato svizzero? No. Ok. Ora, si va su. Qua è un po' diverso. È un po' più bello di prima, perché gli diamo noi la direzione. Cerchiamo di... Uh, lulululu. E cerchiamo di tenerci lontani dalle zone un pochino più pericolose. Io, poi, da... Uh, la mia stamina è sotto il 20% e la temperatura corporea pure. Però, intanto, abbiamo vinto. Siamo arrivati in cima. E abbiamo fatto un nuovo tempo record, che è 13 minuti. Che, in realtà, sono... Sì, 13 minuti. 13 ore, un minuto, alla fine. End expedition. E completiamo la prima. Ora, si può andare sulla seconda. Ci viene indicato che cosa ci serve. In questo caso diventa già un pochino più complicato, perché parliamo di una tenda, una scala, una zuppa, una stufa, addirittura, un vaso, insomma, un contenitore per il cibo, un tappetino per dormire, un sacco a pelo, due corde, 12 piccati da ghiaccio, il vestire, le batterie, la maschera d'ossigeno e una bombola di ossigeno. Quindi, questa è, senz'altro, una situazione un po' più complicata. Quindi, in questo caso, andiamo avanti e vediamo, perché la cosa fastidiosa è che dobbiamo andare a comprarcela noi. Non ci viene già data, quindi prendo questa. Questo. Pile, non mi dice quante. Pile una, maschera d'ossigeno una, 5 barrette, 1, 2, 3, 4, 5, di quelle lì, 12 piccati da ghiaccio, 12, 2 corde, le corde quali? Medium o short? E quella arancione, dice. Se non abbiamo tutto, non ci fa partire, eh. Questa, due corde, sacco a pelo, bassa qualità, si prendiamo in bassa qualità, una scala, una stufa, un pot, una tenda, un bombolo d'ossigeno, next, equipaggiamo quello che ci serve, packing, non me lo fa fare neanche in modo automatico, quindi iniziamo a mettere le cose più complicate qui, le cose più pesanti qui, non so neanche la dimensione io del, di tutta questa roba, quindi, dobbiamo posizionarla un po' come viene. Questa è interessante perché me li mette tutti sotto lo stesso coso, quindi, me li mette poi dentro, sono ripartiti piuttosto male, devo dire. Se spostassi questo qui, questo qui, 26,44, sì, il peso è più sopra, ci potrebbe anche stare. Vediamo se c'è tutto, sì, in start expedition, no, mancano elementi dal backpack, quindi, dobbiamo andare a vedere che cosa manca. Storage, ah sì, mancano queste, dovremmo essere più o meno lì, sì, sì, missing, cosa manca? La zuppa, la zuppa, quella mi aveva proprio persa, quindi, mettiamo la zuppa, nel packing, anche la headlamp, la fretta, mannaggia me, la fretta, headlamp, e impacchetta, mi anche, ah no, ma me la, me la metto io in faccia, ok, perfetto, starting, no, un cacchio, 5, 1, 1, 12, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, eh sì, la fretta, è una verità roba, metti dentro anche questa, adesso dobbiamo avere tutto, perfetto, non la faremo questa, però, dobbiamo essere bravi a arrivare in cima, e sarà tosta, perché adesso si avanza, di là, vedete che ci sono, c'è la mappa, con le nostre indicazioni, ci sono due sentieri, una, dove viene richiesto una scala, entrambi in realtà, ma sembra più agevole, questa, ma più in piedi, mentre questa è un pochino più tranquilla, e guardate come si fa in piedi, dopo il percorso, perché dovremmo arrivare in cima, probabilmente là, bene, questo era, il gioco, adesso stoppo la, la schermata, questo era Climber, Sky is the limit, attendo il vostro trepidante, il vostro parere qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo in un prossimo, video gameplay, alla prossima ragazzi, e ciao ciao.